Siracusa a festività natalizie comune spende 140.000 euro ma mancano gli eventi, sindaco Avaro con la città. Non bastano delle costose luminarie per illuminare il Natale, eppure a Siracusa come spesso accade con questa amministrazione pare si stia pensando solo alla forma piuttosto che alla sostanza. Il comune nei giorni scorsi ha giudicato il servizio di illuminazione per le eminenti festività di Natale impegnando quasi 140.000 euro a fronte di un ribasso d'asta dello 0,01%, una cifra importante che lascerebbe presagire un cartellone di appuntamenti natalizi di altrettanto spessore, ma così non è. Con grande dispiacere, ma non con altrettanto stupore, non possiamo non constatare che ancora oggi l'amministrazione comunale di Siracusa non abbia informato la città circa una eventuale programmazione di eventi che si dovrebbero svolgere durante il periodo natalizio. Al contrario, in quasi tutti i comuni della nostra provincia sono stati rese pubblici vari eventi in programma che inizieranno nella maggior parte dei casi il giorno 8 dicembre, in coincidenza con la festa dell'Immacolata Concezione, per terminare il 6 gennaio. Crediamo che in un periodo storico sicuramente non semplice per tutti i cittadini, dalle famiglie e commercianti, avere un'area di festa in città possa dare un piccolo aiuto e un po' di leggerezza. Detto questo, domandiamo all'amministrazione se è in ritardo nel comunicare alla cittadinanza la programmazione degli eventi natalizi o se forse detta mancanza sia data dal fatto che non esiste in realtà alcuna programmazione di eventi da parte del Comune di Siracusa. Queste le affermazioni di Gianmarco Vaccarisi, commissario cittadino di Forza Italia. Grazie.